Arpa al lavoro a Milazzo. Attraverso lo strumento chiamato canisteri tecnici hanno provveduto a prelevare campioni d'aria. A chiedere l'intervento in città dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale è stato il sindaco Giovanni Formica. Alla base una fastidiosa puzza simile a quella del gas che nel pomeriggio di ieri ha investito molte zone di Milazzo procurando comprensibile preoccupazione tra i cittadini. Formica ha chiesto all'ARPA di accertare l'esatta natura del fenomeno. Così i tecnici reperibili hanno provveduto a catturare campioni d'aria in un momento peraltro di grande intensità degli odori. Intanto lo stesso sindaco di Milazzo ha provveduto a interpellare la raffineria per chiedere se vi fossero eventuali anomalie agli impianti. L'azienda ha risposto che tutto era in regola. Dal canto suo il primo cittadino ha affermato attraverso una nota diramata dall'ufficio stampa di Palazzo dell'Aquila che ripone e fiducia nel prelievo effettuato ieri dall'ARPA al fine di conoscere le caratteristiche dei composti respirati. Nel caso in cui le analisi dovessero consentire di individuare i responsabili del fenomeno il sindaco si è detto pronto a sporgere denuncia alla procura della Repubblica e mettere in atto tutte le eventuali iniziative rientranti nelle sue competenze a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.